Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza e partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità. E' questo lo spirito del Lions Club International, associazione filantropica con un buon radicamento anche in Valtellina e Valchiavenna. Fra gli ultimi incontri, l'intermeeting Lions Bormio Livigno e Tellino con il governatore Francesca Fiorella Trovato, della quale ricordiamo l'importante esperienza professionale maturata al servizio delle istituzioni e dei cittadini. E' stata infatti per anni funzionare per il Ministero per l'Interno. La serata si è svolta la contrada a Beltramelli, a Villa di Tirano. L'annuale visita del governatore Fiorella Trovato all'intermeeting del Lions Bormio, presidente Gino Picci, al Lions Club Tellino, Luciano Andreoli, al Club Satellite Livigno, nato sette anni fa e guidato da Lino Trabucchi, è servito anche per presentare i nuovi soci, Piero Castellani, Gian Antonio Curti, Cinzia Mazzanti, Silvia Pattini e Loris Galli. Fra il momento conviviale, anche il rituale scambio di Gagliardetti e di omaggi, e poi il governatore ha ribadito l'importanza e l'impegno dei soci Lions nella società civile. L'associazione Lions Club International può crescere, ma non crescere soltanto numericamente, perché a noi interessano, come ho detto, sicuramente i numeri, ma a noi interessa la qualità delle persone. E quando si dice socio di qualità non si intende un socio di qualità che ha determinati requisiti così. L'unico requisito che deve avere è quello di avere un'etica condivisa e condividere i nostri scopi. Dopodiché la qualità si aggiunge, è un requisito che piano piano viene, perché c'è questa condivisione, il coinvolgimento. Il mio motto è armonia, condivisione e concretezza. Tre parole. In queste parole che qua significa? Come nelle famiglie, se non c'è armonia non si va avanti. Attraverso l'armonia c'è la condivisione, quindi insieme si decide cosa fare. La concretezza, perché se noi decidiamo di andare sulla Luna, dobbiamo avere i mezzi per poterlo fare. Alla serata, presente fra i tanti, il sindaco di Livigno Remogalli, Conlino Trabucchi, Adriano Longa, Mirko Cusini, Ermanno Zini e Giacomo Caruso e tanti altri soci che operano con impegno e passione a favore delle attività benefiche del Lions.